È tutto confermato, è tutto pronto per lo sciopero dei benzinai indetto per domani, martedì 24 gennaio. Nessuna marcia indietro, quindi. Al netto di clamorosi dietrofront, la serrata dei benzinai, compresi i distributori automatici, resta nonostante l'appello del ministro Adolfo Urso a desistere dall'intento, che sarebbe un danno per i cittadini. La chiusura per protesta dei distributori di carburante è confermata dalle ore 19 di domani, 24 gennaio, alle 19 di giovedì 26 sulla rete ordinaria e dalle ore 22 del 24 alle ore 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale. Per questa ragione l'appello del ministro Urso sarebbe destinato a rimanere una vox clamantis in deserto, come dimostra la risposta delle principali associazioni di categoria, secondo cui lo stop era ed è confermato e le dichiarazioni del ministro, dicono, sono l'ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il governo in questa vicenda. Intanto diverse associazioni di consumatori si schierano dalla parte del ministro delle imprese del Made in Italy e minacciano a loro volta un controsciopero degli automobilisti in tutto il territorio nazionale, a meno che la serrata non venga revocata. L'iniziativa a cui si sta lavorando e su cui si spera ci sia un coinvolgimento di tutte le associazioni, dicono da ASSO utenti, cercheranno di convincere le persone a non fare benzina per due o tre giorni, in alternativa di fare il pieno solo nei più convenienti distributori automatici o di pagare il benzinaio con il metodo del POS e non con i contanti. Sospendere in modo totale il servizio per 48 ore sulla rete urbana e sulle autostrade, sia per la modalità servito che per il self-service, rappresenta un atto abbenorme che creerà enormi e ingiustificati danni ai cittadini, tuone il Kodakons. Uno sciopero che appare ancora più immotivato e sbagliato se si considera che il governo, su richiesta degli stessi benzinai, ha anacquato il decreto trasparenza, eliminando l'obbligo di indicazione giornaliera dei prezzi medi e riducendo drasticamente le sanzioni per i distributori scorretti. Non si è fatta attendere la replica della premere Giorgia Meloni, che da Algeri ha ribadito li abbiamo convocati già due volte, il provvedimento è giusto, non si torna indietro.